siamo qui alla fontana vecchia a montevertuso guardate che cosa c'è una vera e propria discarica in una delle zone più belle di positano anzi direi dell'italia discarica di rifiuti da una parte qua l'hanno preso come una specie di scarica ma d'altra parte ci stanno tutti questi resti ancora del disastro e non si capisce cosa si aspetta è veramente uno scempio anche da questa parte altri rifiuti giustamente hanno visto tutto qua è una cosa è una cosa assurda e vergognosa